Siamo all'interno del parco di Porto Conte, nella fattispecie all'interno dell'oasi faunistica delle prigionette. Questa è una zona molto particolare, ricca di endemismi, sia nella flora, tra le piante, sia nella fauna, con animali particolari, rapaci, ugulati e tanto altro. E ora siamo all'interno di un golf cart, visto che il sole è parecchio forte, quindi camminare è un po' più complicato. Golf cart elettrico, quindi rispettoso dell'aria, e andiamo alla scoperta di cose bellissime. Eccoci arrivati a Cala della Barca. Qui si trovano diverse specie endemiche, o comunque che qua si trovano molto bene. Abbiamo diverse euforbie, licriso, abbiamo addirittura della stragalo e alcune specie di ginepi. Qui le piante e gli animali crescono e vivono proprio sospese sopra il mare. Guardate che meraviglia, che magia.